un po' di genio e di grandissimo coraggio disse io vi frego tutti perché io faccio quello che voi non pensate no por favor, puoi dejare di fare ruido? grazie e beh che coglia Michele no poveri, se no poi fanno un altro video e beh ragazzi questa cosa ti dicono lo sfruttamento Michele, dopo fanno un'altra cosa su di te va beh smettetela dai basta ragazzi se no vi arriva il rumore dei piatti e sentite i piatti